Iniziamo con un canelupo cecoslovacco. Pastore tedesco a pelo corto. Pastore tedesco a pelo lungo. Spino degli Iblei. Pastore belga Grönendal. Pastore belga Maninois. Pastore della Brie. Pastore svizzero bianco. Pastore australiano. Pastore di Picardia. Pastore bergamasco. Bovaro delle Fiandre. Birded Collie. Pastore scozzese a pelo lungo. Pastore scozzese a pelo corto. Border Collie. Australian Cattle Dog. Shetland. Skipper Key. Wild Corgi Cardigan. Wild Corgi Pembroke. Ripeto l'invito. I migliori soggetti terrier nel pre-ring. razze da pastore. Quindi in questo raggruppamento tutte le razze che vengono utilizzate per la custodia dei Greci e la categoria Bovari che vengono utilizzate invece per il governo delle Mangrie. Vediamo ora quali saranno i sei soggetti che la giudice andrà a selezionare. Beardy Collie. Pastore svizzero bianco. Pastore australiano. Pastore dell'abri. Pastore svizzero bianco. Pastore australiano. Beardy Collie. Australian Cattle Dog. E Wild Corgi Pembroke. Grazie come sempre agli altri soggetti che lasciano il ring accompagnati dal vostro applauso. Vediamo intanto muovere avanti e indietro questa razza di origine francese che è il pastore dell'abri. Pastore svizzero bianco. Pastore svizzero bianco. Pastore australiano che ha una lunga storia in quanto nasce dai Paesi Baschi, poi questa razza si trasferisce in Inghilterra, dall'Inghilterra all'Australia e dall'Australia agli stati occidentali dell'America che ne riconoscono lo standard. Razza di origine inglese, il Berlitt Collie. E abbiamo le ultime due razze che appartengono alla categoria dei Bovari, puramente australiano a questa razza che è l'Australian Cattle Dog. Ed infine, in inglese, precisamente dal Galles, il Wild Core di Pembro. Il Wild Core di Pembro. Al secondo posto la Francia, il pastore dell'abri. E rivediamo il finale, il vincitore che è il pastore australiano. Un giro di ring, poi il pastore australiano, prima di... un giro di ring, please, ok. E alterniamo le interviste alle comunicazioni di servizio. Signori della caccia, gruppo 7, io lo so che vi trovate molto meglio nei boschi che nei ring, però è il vostro momento, dovete andare nel pre-ring perché fra un pochino farete parte anche voi del Best in Show. Quindi, per favore, tutti i B.O.B. del settimo raggruppamento sono aspettati nel pre-ring. E adesso passiamo alla parte divertente. Io mi sono fermata perché un cane mi ha sorriso. In genere i proprietari mi guardano brutto della serie Passa Oltre, non ti sognare minimamente di intervistarmi. E mi ha sorriso il cane, però devo dire che anche la signora mi ha sorriso. Siete proprio due... come posso dire, due belle persone, se consideriamo persone anche lui, ovviamente. Posso sapere i vostri nomi? Sì, io mi chiamo Margherita, lui si chiama Kin. Kin? Ma mi ha sorriso davvero o sono io?